Ringraziamo il videomaker Stefano Bisulli che è presente qui con noi questa sera tra l'altro per questo bel assemblaggio di foto come se fossero sulla nostra tavola. L'abbiamo vista e l'abbiamo sfogliata insieme per ripercorrere la storia di Sant'Arcangelo e ora ci aspetta il futuro perché adesso dobbiamo aprire il cantiere delle idee. Insieme pensiamo insieme i luoghi del futuro sostenibile insieme al sindaco di Sant'Arcangelo Mauro Morri. Buonasera sindaco, la facciamo microfonare perché insieme al sindaco ci sarà una presentazione con una serie di idee e suggestioni da sottoporre alla città per avviare il dibattito con cui si intende costruire la Sant'Arcangelo del futuro. Come detto questo è solo un primo passo di un percorso che sarà lungo ed importante. La parola al sindaco. Ero in bicicletta e salivo in alto nella città verso il parco Capucini. Una signora non più giovane, coi capelli bianchi raccolti a cipolla dietro la nuca, intenta leggere un libro con la schiena contro le mura dei frati, alza lo sguardo e mi saluta. Mi fermo, la saluto e vedo che legge un libro di Tonino Guerra. Le faccio i complimenti e ci mettiamo a parlare. Dopo poco chiude il libro e mi dice che me lo vuole regalare. Le dico, guardi, la ringrazio ma i libri di Tonino penso di averli già letti tanto. Leggo il titolo, Tonino Guerra, un vecchio con un piede in oriente, maggiò l'editore. Non l'avevo mai visto, lo accetto e ringrazio. Riparto, mi fermo in fondo al monte di Piretta, lo apro e ci leggo di getto ciò che avevo già ascoltato e visto molte volte sui libri e sui ritagli di Tonino Guerra, nei dieci messaggi al sindaco del mio paese. Mi è parso ancora una volta che Tonino, non so da dove, mi e ci scrivesse Signor sindaco, l'altro giorno ho fatto dei piccoli sogni uno dopo l'altro. Tutte le volte appariva la piazza grande, col rettangolo usato in modo diverso. Nel primo vedevo che i palazzi tutt'attorno racchiudevano un orto, come una volta, e mi chiedevo se non sia giusto togliere il selciato e rimettere rettangoli di aglio, di cavoli e di girasoli. Vedevo che i paesani camminavano lungo i sentieri e si piegavano per controllare se gli ortaggi erano giusti da raccogliere, sorridevano e si scambiavano delle foglie. E anche musica, perlomeno la domenica mattina alle undici, e magari tutti i giorni, quando la sera è trascinata da scarpe solitarie e la nebbia racchiude nei suoi veli lampioni, un waltzer di faini o di strauss agli altoparlanti ranicchiati tra gli alberi. Sindaco, bisogna tornare a essere bambini per governare. Sindaco, devi pregare che su questa piazza arrivino le cicogne o mille ali di farfalle. Devi riempire gli occhi di tutti noi di cose che siano l'inizio di un grande sogno. Devi gridare che costruiremo le piramidi. Non importa se poi non le costruiremo. Quello che conta è alimentare il desiderio. I grandi godimenti sono quelli che si provano succhiando dagli altri la meraviglia che esplode. Solo così può rinascere la bella favola del nostro e del tuo paese. Così Tonino Guerra ci ha parlato nei suoi dieci messaggi al Sindaco. E così ci ha parlato dei suoi pensieri, delle sue divagazioni. Gli ha chiamati i pensieri sospesi. Ma anche dentro ognuno di noi ci sono i pensieri sospesi. E crediamo, si è giunto il momento, che la città si ritrovi e si entusiasmi, ancora una volta, riprendendo il rango che gli compete e gli appartiene in termini di elaborazione intellettuale e culturale. Cioè si ritrovi in una nuova agora. Massimo Gramellini, un mese fa, sulla stampa, nel suo Buongiorno, dal titolo Cercasi lampadine. Un amico racconta che qualche tempo dopo la morte del nonno, ha dovuto liberare la cantina del suo appartamento. Tra le cose ha trovato uno scatolone, pieno di lampadine fulminate. Era accompagnato da un biglietto scritto a mano. Casomai in futuro inventassero un sistema per ripararle. Dietro certi aneddoti affiora un mondo. Pare di vederlo quell'uomo, mentre accatasta oggetti lampadine inutilizzabili, in un angolo della cantina, con la speranza segreta che un giorno possono servire ancora. L'Italia è uscita dalle macerie di una guerra mondiale grazie a persone che ragionavano così. Statisti che inseguivano obiettivi e non sondaggi, pare oggi. Imprenditori che rinunciavano agli utili per tradurli in investimenti, banchieri che prestavano denaro senza passare subito all'incasso, famiglie che risparmiavano sui cappotti dei figli ma non sui loro studi, milioni di appassionati della vita che coniugavano i verbi al futuro. Pur sapendo che non lo avrebbero goduto, ma soltanto propiziato. A chi, seduto su nuove macerie, si chiede da dove ripartire, mi verrebbe da indicare quello scatolone di lampadine bruciate. Le due storie non sono forse la stessa storia? Lo scatolone di lampadine rotte non è forse quei progetti sospesi che coniugano i verbi al futuro? Noi stiamo seduti sulle nuove macerie oppure siamo tra quelli che devono risparmiare sui cappotti dei figli, ma investiamo sugli studi dei nostri figli? Questa sera abbiamo presentato, prima, in pochi minuti, next future, futuro prossimo, i trend del mondo nei prossimi vent'anni. Quello è lo scenario mondiale, affascinante, ma allo stesso tempo inquietante. Ci viene detto longevità, cambiamento, velocità, produzioni, osseo, corpo, tempo libero, donne, etica, estetica, religioni, creatività, tecnologia. Si parla di bellezza. Salverà il mondo, come diceva Tonino, o il mondo ha già ucciso la bellezza? La bellezza sarà il nostro petrolio? I localismi saranno mortificati o modificati dalla globalizzazione? Il cambiamento, come avviene? Sant'Arcangelo, cosa fa? Noi rafforziamo la nostra identità o lasciamo perdere, perché comunque tutto ci travolgerà? 25 anni fa, esattamente il 29 aprile 1988, la giunta comunale di 25 anni fa, guidata dal sindaco Giancarlo Zofoli, uscì pubblicamente con, fra le mura, sette progetti più uno del centro storico. Furono progetti, discussioni, provocazioni, anche polemiche. Pensate un po' che cosa, 25 anni fa, quel sindaco, quegli assessori, volevano proporre alla città, pensate, togliere tutte le auto da Piazza Ganganelli, soffocata dal traffico e adibita parcheggio. Pedonalizzare i due borghi di via Don Menzoni, via Matteotto e Cavour, quello che noi chiamiamo il Combarbio, e riqualificare, comunque senza auto, consolidare le grotte Tuface, riqualificare l'intero centro storico, addirittura fu una provocazione. Riqualificare il vecchio campo sportivo, ora ex campo della Fiera, togliendo 200 auto in sosta, quello che oggi è il nostro parco. Pensate un po', furono discussioni a non finire. Sono passati 25 anni, sono passati altri quattro sindaci, dopo Zoffoli la sindachessa compianta Cristina, Garattoni, poi Fabio Maioli e Mauro Vannoni. Tanto impegno, discussione, confronto, polemiche, ricerca di finanziamenti, ma volontà, tanto coraggio. Ora quelle idee provocatorie sono da tempo realtà, sono un bene culturale, collettivo, con un forte livello di attrattività locale. non. Qualcuno forse oggi riaprirebbe la strada sotto l'arco? O la piazza Ganganelli potrebbe ridiventare un parcheggio? O il parco potrebbe ridiventare un parcheggio? O il combarbio, con tutti i negozi di vicinato, potrebbero ripassare le auto? Tra utopia e realtà fu il decimo capitolo che voglio inserire nelle linee programmatiche di mandato quando mi presentai quattro anni fa candidato sindaco. Qualcuno un po' sorrise, ma semplicemente intendevo già allora pensare di avviare una discussione assolutamente libera, creativa con i cittadini di Sant'Arcangelo per un'eventuale trasformazione in nuovi obiettivi per il futuro. Da allora c'è un aspetto nuovo però, la crisi economica e sociale. Quindi da qui la necessità di non arrendersi a una crisi che non solo durerà ancora per lungo tempo, ma che sta imponendo profondi cambiamenti nelle politiche di programmazione, nella salvaguardia di alcune fondamentali tutele che non saranno più possibili. E sta cambiando anche gli stili di vita individuali. L'aggiornamento della ricerca socio-economica prima presentata dice esattamente questo. Dunque serve uno scatto, un momento in cui ogni cittadino possa sentirsi amministratore, in cui ognuno si chieda un'idea di città che non è solo il centro storico o le frazioni. Bisogna vivere il centro per tutta la città con un nuovo e diffuso senso di appartenenza. Quindi una città tutta intera, che sappia esprimere una nuova dimensione, anche peculiare, dove i nuovi santarcangiolesi hanno assorbito il piacere di viverci. Si tratta di trasformare l'orgoglio di chi è nato a Sant'Arcangelo, o ci vive da molti anni, che si deve unire, si deve contaminare con chi invece è nuovo di Sant'Arcangelo, con chi ha scelto di venire a vivere a Sant'Arcangelo e per metterci su famiglia. Insieme, una città tutta intera, che si ritrova in un momento di progettazione del futuro, perché rinnovarsi, favorire anziché subire i processi di trasformazione, è l'unico modo per conservare la tipicità di Sant'Arcangelo. Quindi una risposta collettiva, una sfida collettiva, che può venire alla città e dalla città, è l'unica, che può combattere il disincanto sempre più diffuso e che sempre meno si distingue dal pessimismo e dalla rassegnazione. Sentimenti, questi ultimi, che mal si conciliano con la storia di Sant'Arcangelo, che invece ha saputo reagire alla grande, sempre, fuori da schemi o anche da rivendicazioni o dall'abbandono al come eravamo belli. A un patto però, e finisco questa prima parte, a un patto però, cioè che è la piena consapevolezza di ciò che non è questa presentazione di Sant'Arcangelo 2030. non siamo in campagna elettorale, non ci interessa, perché è solamente la città che conta. Non ragioniamo corto e vicino, ma ragioniamo alto e lungo. Non è un piano strategico, non è un nuovo strumento urbanistico, non è un libro dei sogni, non è un piano triennale delle opere pubbliche o un bilancio triennale. Sant'Arcangelo 2030 è coraggio, è raccogliere la sfida del futuro, è iniziare ora per esserci insieme, è aprire il cantiere delle idee per pensare insieme ai luoghi del futuro sostenibile. E anche dire ciò che non siamo e non vogliamo essere. Noi non siamo una città dormitorio, noi non siamo una città di plastica o artificiale, non è una città la nostra che copia modelli di sviluppo, non è una città che si chiude sotto una campana di vetro solo perché qui si sta bene e si vive bene. In quello che dico ovviamente c'è tutto l'orgoglio di essere non tanto sindaco ma Sant'Arcangiolese, città integrata nel tessuto della provincia, una città che qualcuno da fuori magari vede come un paese tranquillo o addormentato nel tempo, lontano dall'idea di modernità. E modernità significa soprattutto radici profonde e ben salde, coniugare tradizione e innovazione. la modernità non può essere suggerita dai progetti, magari a vetri e acciaio, perché questo non sarebbe per noi modernità, ma sarebbe un banale modernismo che a noi non ci interessa. Se la città non è altro che uno stato d'animo, solo per fare una citazione, allora significa che il punto fondamentale su cui intervenire è l'elaborazione di un'idea complessiva di città, che non può e non deve essere la sommatoria di singoli interventi. Al contrario sono i singoli interventi che devono risultare successivamente da un'idea complessiva ed essere coerenti con essa. Apriamo il cantiere delle idee e pensiamo insieme i luoghi del futuro sostenibile. Questo è lo slogan che abbiamo usato. Sant'Arcangelo mondo, io seguirò con voi le immagini da qui per non girarmi tutte le volte. Sant'Arcangelo mondo, la rete dei centri, questo è Sant'Arcangelo, il centro, il capoluogo con le frazioni e con i due fiumi. Sant'Arcangelo mondo, la nostra mappa dei valori. L'idea di città che coniughi tradizione e innovazione, che poggi sulle idee e forze e quindi su valori condivisi e condivisioni significa anche coraggio e prendersi delle responsabilità di visione. Noi proponiamo, noi immaginiamo per la città del futuro prima questi quattro valori fondanti per Sant'Arcangelo. Una città ecosostenibile della cultura, dell'accoglienza e del buon vivere. Questo è il nostro DNA. Oggi siamo qui, c'è scritto in alto, nella Sant'Arcangelo mondo, il nostro DNA, la nostra spina dorsale, arriva a Sant'Arcangelo 2030, dalla trasmissione dei valori identitari all'idea di futuro, il futuro non si prevede ma si inventa. In questo DNA i quattro valori e l'ecosostenibilità significa principio trasversale a tutti i valori. Nuovo uso del territorio, utilizzo di energie e materiali di riuso, una nuova edilizia all'insegna dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, un edilizia meno energivora, riqualificare e usare l'esistente autocostruzione, un piano energetico comunale, una riqualificazione antisismica, abbiamo la maggioranza del patrimonio edilizio comunale degli anni 50, 60 e 70. Sostegno l'imprenditoria giovanile, commercio diffuso, mobilità attiva che non è solo mobilità lenta, in bici o a piedi, ampliando le aree pedonali e ciclabili. Andremo lunedì ad aderire al patto europeo dei sindaci per realizzare una strategia europea contro il cambiamento climatico. Lunedì la proveremo in consiglio, sarò successivamente a Bruxelles per la firma, ci prenderemo degli impegni con l'Europa come città di Sant'Arcangelo, andando a realizzare da qui al 2020 il piano di azione di energia sostenibile. Il secondo valore è la cultura. Sant'Arcangelo, laboratorio culturale di incontro e di scambio tra artisti. Sant'Arcangelo, città della poesia, dei saperi e del teatro. Cultura come nuova economia che genera reddito diffuso. La nuova biblioteca, la casa della cultura, la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, storico ed architettonico. Monumenti, paesaggi, parchi. Il terzo valore è l'accoglienza. La Sant'Arcangelo è una città inclusiva, aperta e solidale. È la città dell'accoglienza, cioè che rafforza la coesione sociale con l'ospitalità diffusa, alberghi, B&B, agriturismi. L'albergo diffuso. Fiere, mercati, turismo e non solo escursionismo. Incontro ed eventi all'aria aperta, piazze, parchi, teatro, concerti. Eventi sostenibili, cioè a saldo pari per consumo di energia, da fonti alternative che compenseranno il consumo di CO2 per gli eventi. Commercio diffuso e divicinato. il quarto valore e l'ultimo che indichiamo è per il futuro la città del buon vivere. Sant'Arcangelo riconosciuta in Europa tra le 200 città in Europa. Città slow. Tempo libero, ritmi slow, città dello sport, del mangiar bene, dell'enogastronomia. Prodotti tipici a chilometro zero, accessibili a tutti, che non significa solo in bici a piedi. Wifi, smart mobility, smart city. La città del buon lavoro con la legalità e la sicurezza nel lavoro. Città con crescita inclusiva, ecologica, creativa. Insomma, questi valori per la città del futuro, i nuovi valori con radici profonde, un modello di crescita che sia ecosostenibile oppure eco-insostenibile. È prima di tutto una questione culturale. La grande difficoltà ma anche la grande sfida è nella capacità di governare anche in presenza di buona politica. Negli ultimi tempi in giro per l'Italia se ne vede poca. Su questi quattro valori il modello di crescita è chiaro. Città ecosostenibile dalla cultura all'accoglienza. Stile di vita slow, proposta di modello economico concreto e innovativo, garantire il benessere senza snaturare le vocazioni di Sant'Arcangelo. A partire dal tessuto sociale e dalle relazioni, perché da noi la piazza funziona, le relazioni da noi si tengono. Riqualificare e innovare sono l'occasione per riattivare il motore inceppato dell'economia. La municipalità viene attivata per fondi delle aree urbane dismesse, accordi con gli istituti di credito, accesso al credito facilitato, incentivi per riqualificare il nostro patrimonio edilizio vecchio. Green economy significa salvaguardare l'identità sociale e culturale, ma innovando, migliorare la qualità della vita. Non vogliamo annunci, ma vogliamo innovare col tempo e con sobrietà. meno consumo di suolo, perché è finito il suolo. Energia, meno consumo di energia, meno consumo di rifiuti. Significa anche sostenere il piccolo, cioè la micro green economy. Piccole imprese che si possono riconvertire con più occupazione giovanile. Dare prospettiva ai giovani significa tenerli qui, altrimenti finisce che vanno a Londra, a Berlino o a San Francisco, attivando i luoghi della città come incubatori di impresa, cioè opportunità di lavoro. Questi quattro valori, e ho finito, condivisi che immaginiamo per il futuro e da qui passiamo ad alcune suggestioni e sottolineo suggestioni. Non sono progetti, non è un piano urbanistico, non è un bilancio, sono delle immaginazioni, delle suggestioni di come proviamo insieme a immaginare il futuro della città, partendo da un volo sulla città. Questa è la mappa del territorio e i centri, col centro e le frazioni. 12 sono queste che abbiamo definito per brevità progetti, ma che ripeto sono suggestioni nei quattro sistemi. La mobilità attiva, il sistema delle piazze, la tutela del patrimonio storico e naturalistico e la riqualificazione. Il primo sistema è quello della mobilità attiva, le ciclabili. Territorio, capoluogo e frazioni. Queste sono attualmente le immagini delle frazioni col capoluogo e le piste ciclabili esistenti, quelle già realizzate negli anni. Alcuni tratti, quelle lungo il fiume Marecchia, quella dell'Uso che partirà presto. Queste appunto sono le due piste ciclabili a fianco del fiume Marecchia e l'altra, quella sul fiume Uso. Questo è come immaginiamo il futuro, cioè a proposito di mobilità attiva. Il tema del collegamento di tutte le frazioni con il capoluogo sono indicate le scuole nelle frazioni, che sono luoghi importanti nelle frazioni e come questa rete all'interno delle frazioni si collega poi con il capoluogo, con le piste sui fiumi e questa rete di mobilità attiva nelle frazioni e sul capoluogo. I terminali di sosta, i puntini che sono indicati, individuano gli attuali sei terminali di sosta presenti a Sant'Arcangelo nel centro urbano, quindi attorno al centro storico, che le andiamo a leggere insieme. Il Francolini, vicino alla via Emilia, sotto il centro storico, i Capuccini in alto, Augusto Campana, l'area di fronte a noi, qui alla zona sportiva, è l'area di fronte, sono due, perché sono due aree, una in via Piave e una qui vicino, di fronte, vicino a via Togliatti, e l'ultimo, chiamato Foschi, nell'area ex Foschi, nei pressi dell'ingresso dell'ospedale. Questo è l'oggi, questa è un'immagine del Francolini, il parcheggio Francolini, così come questo è come proviamo a immaginare il futuro, cioè con le auto, le bici elettriche, con il rifornimento elettrico nei nostri terminali di sosta. Questa è l'area campana, ad esempio, per come viene immaginata con le colonnine, ricarica elettrica, auto, bici, il bike sharing, dove uno arriva da fuori, parcheggia fuori, prende la bicicletta e arriva in centro con poche centinaia di metri, copertura fotovoltaico, alimentazione, vicino all'attuale casa dell'acqua. Parcheggio Capucini. Questa è una vista dall'alto, questo è l'attuale ingresso del parcheggio Capucini, siamo sulle vie Cup e via Pozzolungo. In futuro, immaginiamo nel terminale di sosta Capucini, con una proposta di realizzazione di un parcheggio interrato multipiano, con 50 posti auto, che in realtà vogliono essere box auto, abbiamo una forte esigenza che i residenti del centro storico alto abbiano un luogo dove posteggiare le auto fuori dal centro storico. questo è una possibilità, qui in realtà c'è già un progetto, come vedete, con i box auto sotto, in modo tale che liberiamo una parte del centro storico delle nostre contrade dalle auto e dalle lamiere. Queste sono alcune sezioni del parcheggio Francolini. Questa è la foto attuale sempre, era i Capucini quello di prima, questo è il parcheggio Francolini, che tutti credo conosciamo, una foto dall'alto, e questa è un'immagine che comincia a rassumere un po' il tema dell'area Francolini, di che cosa immaginiamo possa diventare, è un'area, vedete l'area pedonale dall'attuale piazza Marini, in basso, che si estende fino a via Montevecchi e via Daniele Felici, per arrivare all'attuale ingresso del parcheggio Francolini. In basso a destra, in colore rosso, lo sfondamento di via Giordano Bruno, la via Giordano Bruno è quella che passa dietro all'attuale scuola elementare, che immaginiamo aperta, sfondamento, fino all'ingresso dell'attuale parcheggio Francolini, dove c'è la falegneria Moroni, che tutti conosciamo. In questo modo si collega la viabilità con quel parcheggio senza entrare davanti a piazza Marini. In basso, invece, a sinistra, un possibile nuovo accesso all'area pedonale di fronte al Francolini, con l'apertura nell'attuale sede dell'ex lavatoio, che poi vedremo, e a salire l'ingresso nel centro storico alto. Il parcheggio Francolini deve diventare un'area avvocata alla mobilità sostenibile, parcheggio di scambio, bike sharing, colonnine di ricarica elettrica, in superficie, immaginiamo di mantenere quello che vedete, gli attuali parcheggi in superficie e l'area verde dell'attuale parco Francolini. Sotto il Francolini 250 posti auto in più, con un parcheggio interrato, un grande terminale di sosta per l'accesso al centro storico e alla zona commerciale di Sant'Arcangelo. Le immagini qui sono poche perché comunque anche qui ci sono dei progetti che vanno realizzati con l'aiuto del privato e quindi in project financing. Questa è un'idea di realizzazione sullo sfondo di un centro polivalente sotto l'attuale montagnola che c'è sulla via Emilia e il collegamento pedonale verso il centro storico, sotto la duna, la collinetta artificiale. L'accessibilità al centro storico, ritorniamo al dettaglio che prima evidenziavo, che è questo. Questo attualmente è l'ex lavatoio che è stato ricostruito dopo aver demolito il vecchio lavatoio e attualmente viene chiamata sala polivalente. L'immagine e il sogno che si ha è di aprire un grande accesso al centro storico alto, per cui senza più l'ex lavatoio. Dall'altra parte, l'altra vista, è senza più l'ex lavatoio, perché apriamo dal parcheggio francolini l'accessibilità al centro storico alto. Accessibilità al centro storico. Questa è l'immagine di due ascensori pubblici, perché abbiamo un tema di salire in centro storico abbattendo le barriere architettoniche e non è cosa semplice, vista la conformazione. Per tutti, quindi per i residenti, ma soprattutto per gli anziani e per i tanti turisti. Con la realizzazione immaginiamo di due ascensori, uno è quello che vedete al numero uno, è all'interno del torrioncino delle scarceri, assolutamente più realizzabile. L'altro invece è un po' più un sogno, perché collega dall'interno della grotta pubblica fino a salire a Palazzo Cenci. Queste sono le ex carceri e quindi quest'idea dal torrioncino delle scarceri di poter mettere un ascensore per salire e eliminare la barriera architettonica importante, così come l'altro, dicevo, all'interno delle grotte pubbliche fino a salire su. A Palazzo Cenci siamo in piazza delle Monache, in alto nel centro storico. Il sistema delle piazze. questa è un'immagine dell'attuale piazza Ganganelli vista dall'alto e quello che oggi c'è. In futuro cambiano molte cose se vogliamo provare a immaginare il nostro futuro. Andando per ordine un sistema di cinque piazze. Prevede di legare, immaginiamo di legare queste quattro piazze esistenti attraverso la completa pedonalizzazione. Il Palazzo Comunale sarà al centro della nuova, può essere al centro della nuova piazza, perché tutto attorno abbiamo un'area pedonale, quindi la nuova piazza pedonale, la piazza grande, come la chiamava Tonino Guerra, andrà dall'attuale Palazzo Unicredit fino ad arrivare a piazza Gramsci, dove c'è il ristorante Zaghini, per capirci, e sul lato opposto dal retro della scuola Pascucci, dove c'è anche la nuova biblioteca, fino all'attuale piazza Marconi, che è al punto 3. Per farciò evidentemente la via Garibaldi, che è quella via che passa tra il comune e la piazza, deve essere interrata per poter avere una nuova grande piazza, con un tunnel in trincea. Questa è un po' una provocazione. Le piazze che indicavo sono quelle numerate, Ganganelli la 1, la 2 la piazza Gramsci, che è quella dietro il comune, la 3 piazza Marconi, che è la piazza delle poste del supercinema, la 4 la piazza Marini, una volta si chiamava piazza della Canapa o piazza delle erbe, e la 5 è quella che poi andremo a immaginare come piazza, l'abbiamo chiamata San Francesco e poi spiegheremo perché. Insomma, una grande area pedonale. Nel sistema delle 5 piazze, con una via Garibaldi in tunnel, credo che non si debba immaginare delle piazze vuote, ma delle piazze vissute, pedonali sì, ma quindi frequentate, con piccolo commercio, pubblici esercizi, dove si svolge la vita quotidiana, gli eventi, le fiere e i mercati, ma anche con i Deors, Tonino Guerra le chiamava le serre fuori dai bar, o le verande all'aperto, con questa percezione di benessere e di piazza, un luogo vero di incontro, dove la gente va perché ci sta bene, dove trova sempre delle relazioni, e non ci vado per fare una vasca e passare basta, ma mi fermo perché incontro gente e mi relaziono. È la piazza grande. Quindi l'attuale strada via Garibaldi fra il comune e la piazza, un'immagine di quel tunnel, cioè di mettere via Garibaldi sotto e pedonalizzare tra il comune e la piazza, con un'immagine questa dall'attuale scuola Pascucci al lato opposto sulla nuova biblioteca, con un'area completamente pedonalizzata e il bike sharing, e quindi a piedi e in bicicletta. La piazza sospesa di Tonoguerra, qui ci sono alcune immagini suggestive per alcuni suggerimenti che Tonino ci ha raccontato negli anni. Queste farfalle disegnate sotto ogni arco dei portici del comune, così come dei portici che attorniano la piazza Ganganelli, il gazebo, l'area verde attorno al monumento ai caduti, come la immaginava lui, e la pigna. Questo è un disegno di Tonino, perché la pigna? La pigna è il simbolo dell'accoglienza, e guarda caso c'è in molte piazze, perché è il simbolo dell'accoglienza. E Tonino Guerra la immaginava così, lui che aveva disegnato questa fontana, la nostra fontana in piazza, con questa suggestione che è tutta sua, di questa pigna. Piazza San Francesco e la scuola Pascucci, in questa suggestione, manterrà l'attuale edificio storico rettangolare che vediamo tutti in piazza, quello che vediamo. Quell'edificio è sorto al posto di un convento dei frati francescani, che si affaccia sulla piazza, ma noi lo immaginiamo con una funzione diversa, anche qui con una suggestione, ovviamente molto lunga, che è quella di un albergo, come ci ha suggerito Tonino Guerra. Hotel San Francesco, perché era un ex convento dei frati, così veniva definito, con una grande valorizzazione architettonica di quell'edificio. Ricordo sempre che Piazza Ganganelli ha avuto un hotel nella storia. Era a fianco del caffè centrale, sopra la ferramenta Semprini. Le attuali funzioni di scuola elementare in centro sono quella scuola Pascucci, sono in un edificio che ha subito anche recentemente degli interventi, ma è, come dire, adattato, perché l'attuale scuola ha delle aule molto grandi, dei corridoi, è molto dispendioso, ha un'architettura interna che non è più adeguata la moderna didattica, senza aule di servizio, laboratori didattici, palestre, aule informatiche. Insomma, la scuola elementare del centro, però noi pensiamo, immaginiamo in futuro che possa e debba rimanere in centro a Sant'Arcangelo. Immaginiamo in questo modo di trasferire in futuro la scuola Pascucci nell'attuale sede della scuola media 1, che è la Saffi in via Galilei, in via Le Marini, che ovviamente è da ampliare, ristrutturare e modernare, e l'attuale scuola media Saffi 1, spostata, accorpata, alla stazione, assieme all'altro pezzo di scuola media, in modo tale da avere nella zona stazione un unico polo scolastico con tutte le scuole medie. La restante parte dell'attuale scuola Pascucci a forma di L, sia l'ala in via Verdi, sia quella su via Giordano Bruno, le immaginiamo non più lì, evidentemente, demolite per ricavare quella piazza che viene immaginata nel futuro, non una piazza vuota, ma vissuta, pedonale, frequentata, in relazione con le altre quattro piazze, piccolo commercio, pubblici esercizi, dove si svolge l'attività quotidiana. Per questo, questa era la scuola Pascucci, che era una fabbrica di pipe, costruita alla fine dell'Ottocento al posto del convento. Rimase in piedi solo il campanile, vedete, di quel convento, e la parte a sinistra con la vecchia facciata del convento. Questa era la vecchia facciata del convento, con la fabbrica di pipe dietro, che prima abbiamo visto. Questa è l'attuale scuola Pascucci, che fu finita di costruire nel 1888. La scuola Pascucci ha più di un secolo di vita. Le attuali scuole comunali, come le vediamo oggi, e un'immagine solo suggestiva di come potrebbe essere, in una suggestione, evidentemente, questo hotel, città dell'accoglienza, si diceva prima, significa avere anche un hotel importante, ospitale, che si affaccia sulla piazza, come suggerito da Torino Guerra, in un edificio storico prestigioso. Faccio notare in particolare gli attuali due portoni che si immaginano aperti per dialogare tra l'attuale piazza Ganganelli e la piazza dietro il nuovo hotel. Quindi di passaggio. Faccio notare anche questa copertura del tetto con due ali che poi arriveranno verso la piazza retrostrante, che poi vedremo. Copertura d'ali, ma semplicemente perché abbiamo parlato di autosufficienza energetica e quindi l'edificio deve essere autosufficiente dal punto di vista energetico, quindi pannelli fotovoltaici. Questa è sempre domani con una suggestione dello stesso edificio. Questa è l'attuale scuola Pascucci. La parte verso la piazza ovviamente è quello che abbiamo immaginato come suggestione che possa diventare un hotel. Le due ali che vedete dell'attuale scuola ovviamente le immaginiamo libere e sempre a proposito di suggestione ed è solo una suggestione. Questa potrebbe essere, vedete a sinistra, gli attuali portici Torlonia di piazza Marini. Immaginiamo con l'edificio dell'attuale Pascucci a fianco che il collegamento del camminamento sotto i portici Torlonia possa e debba proseguire dietro nella nuova piazza che si vede sullo sfondo con il verde e quella copertura in fotovoltaico che rende autosufficiente quell'edificio scende sul retro dell'edificio fino a coprirlo con sotto delle attività. Sono suggestioni evidentemente. Questa è la copertura del retro dell'edificio ma la piazza dietro la immaginiamo così frequentata, vissuta con del verde con i parcheggi interrati il dietro dell'attuale edificio della Pascucci. La piazza Gramsci che si collega dietro il comune con parte di via Dante di Nanni Dante di Nanni saranno parte integranti della nuova piazza riqualificata con un parcheggio interrato indichiamo infatti il reticolo della pedonalizzazione questa è attualmente la piazza Gramsci che in realtà è un parcheggio potremmo chiamarlo parcheggio Gramsci questa è una vista dell'attuale piazza parcheggio Gramsci e il futuro pedonalizzato frequentato un nuovo arredo urbano i parcheggi interrati sempre nel domani pedonalizzazione e questa è una suggestione dall'alto dell'attuale piazza Gramsci piazza Marini la piazza dell'erbo delle verdure vista dall'alto in questo sistema ripercorriamo quel sistema di prima quindi l'intera pedonalizzazione il collegamento tra la piazza Ganganelli la piazza Marini quella cerchiata collegata con la via Andrea Costa pedonalizzata con lo sfondamento di via Giordano questa è l'attuale piazza in realtà è un parcheggio Marini e questa è l'idea di frequentazione del centro del luogo pedonalizzazione una suggestione non troppo lontana qui c'è già qualche progetto questa è un'altra immagine ed in notturno significativo non solo la valorizzazione dei portici Torlonia a sinistra ma anche immaginare in fondo il ricreare con un'illuminazione led il frontale della vecchia chiesa dei frati Capucini che ripeto non c'è più da centinaia di anni la piazza Marconi piazza delle poste o del super cinema luogo della cultura pedonalizzata i luoghi della cultura appunto con immaginare qui finalmente dove c'è attualmente il super cinema il palazzo delle poste un luogo appunto di cultura questo è oggi questa immagine e c'è una provocazione anche dal punto di vista architettonico perché ovviamente abbiamo detto prima che non guardiamo ad altri luoghi noi lontani però la provocazione c'è cioè quel luogo in questa suggestione di teatro a Sant'Arcangelo Sant'Arcangelo da 43 anni è Sant'Arcangelo dei teatri teatro in piazza ma da 43 anni non abbiamo un teatro fisso poter immaginare il palazzo delle poste di proprietà comunale finalmente spostando la funzione delle poste altrove poi diremo assieme all'attuale super cinema e all'arena estiva la suggestione è questa cioè poter avere da dentro il nuovo teatro che è zona anche di arte contemporanea una vista sul piano terra al piano del campo della fiera la suggestione sta nel fatto che da dentro la struttura in vetro in questo luogo fisico guardando il palcoscenico dietro si vede come se fosse una quinta il palcoscenico naturale che è il nostro centro storico di Sant'Arcangelo il palazzo della cultura i luoghi della cultura questo è l'attuale biblioteca l'attuale ex medicina completamente ristrutturata con un investimento ormai terminato in futuro la biblioteca in quel luogo con scusate torno indietro con immaginando dietro immagine fuori dietro il palazzo della cultura con un'area esterna per la lettura estiva le lanterne di Tonino Guerra che illuminano le parole come lui diceva la casa della poesia è semplicemente l'attuale sede della biblioteca come la conosciamo e per la quale immaginiamo luogo che dovrà ospitare il patrimonio culturale dei nostri poeti scrittori pittori artisti della nostra città la terza il terzo sistema è quello della tutela del patrimonio storico e naturalistico le contrade il grande patrimonio il grande patrimonio di edifici pubblici e privati è un'immagine dall'alto sono palazzo docci palazzo cenci l'ex monte di pietà l'ex carceri la pescheria quelli privati però con una grande fruizione pubblica l'area conventuale delle sore bianche in piazza delle monache e rocca malatestiana questa è l'immagine oggi del nostro centro storico delle contrade e questi sono gli edifici che prima dicevo in rilievo e questi sono esattamente quegli edifici il docci il cenci l'ex monte di pietà l'ex carceri e l'attuale pescheria il convento delle sore bianche con questo 3D con la stupenda evidenziata la stupenda grotta sotto questo immaginato il convento con i lavori che sono in corso come ricettivo turistico religioso espositivo congressuale e la rocca malatestiana che è privata molto poco troppo poco conosciuta basterebbe almeno illuminarla da fuori ma la rocca è privata una suggestione che qualcuno ci ha lasciato come tornino guerra le case di vetro in questa immagine del nostro centro storico sono evidenziati con i quattro rettangolini più bianchi dei vuoti che interrompono la trama del costruito antico delle case questi vuoti sono dovuti a bombardamenti durante la guerra o a dei crolli come c'è stato quello più importante in via dei nobili Tonino guerra la chiamava una dentiera bianca senza qualche dente e questo è oggi e questo è chiudere quella dentiera come immaginava Tonino chiudere quei vuoti che vengono riempiti con le case di vetro lui le chiamava le serre è un'immagine futura questa o futuribile è una una bella suggestione questa è la zona del crollo di via dei nobili riempito con una suggestiva casa di vetro è una suggestione evidentemente con all'interno spazi pubblici luoghi e laboratori per artisti dentro il centro storico le aree archeologiche della nostra città sviluppo di turismo culturale ambientale qui sono indicate tutte le aree archeologiche abbiamo un patrimonio archeologico diffuso in ogni area centro e frazioni immaginiamo di valorizzarle con il turismo culturale archeologico la pieve è uno degli esempi più importanti la pieve romanica le aree del fiume uso siamo a sinistra vedete il cimitero a destra il costruito zona stazione in alto la ferrovia in basso la via emilia nel domani si immagina una grande area verde si chiamerà almeno questo è già scritto negli strumenti urbanistici il parco dell'uso è un'immagine aerea con verde urbano parco dell'uso alcuni dettagli che vedremo l'ampliamento del museo etnografico che vedete a destra cerchiato che diventerà prospiciente al parco dell'uso con maggiori spazi espositivi la realizzazione di fattori didattiche etnografiche e più al dettaglio nell'area del fiume uso immaginare questo parco vedete tutte le anse del fiume uso il cimitero quindi il collegamento tra il museo con la presenza di un parco degli orti per anziani e giovani gli orti sociali urbani prossimo mese faremo il primo bando per l'assegnazione di 50 orti sociali urbani con la fattoria didattica le piste ciclabili che collegano dentro il parco dell'uso una parte della città con l'altra stessa cosa tra la ferrovia e la via Emilia orti sociali urbani l'area del fiume uso in particolare del mulino che c'è sotto il ponte del fiume uso va valorizzato sul vecchio percorso della vecchia via dell'acqua che tutti lì sappiamo dove siamo e lì passava la fossa dei mulini che andava dal marecchio all'uso costruita più di 600 anni fa c'erano 42 mulini presenti questa è un'immagine che abbiamo già visto della vecchia fossa dei mulini questo è l'attuale mulino sotto il ponte del fiume uso e immaginiamo di valorizzarlo dal punto di vista turistico il parco Capucini l'anfiteatro siamo in alto in cima al colle questi sono i lavori eseguiti dall'ex genio civile la scorsa estate di consolidamento del colle qui immaginiamo che quell'area possa diventare per la visibilità il panorama che ha una zona più frequentata immaginando un anfiteatro naturale senza cemento solo sedute in legno in erbimento naturale un'area di teatro spettacoli con una bella veduta panoramica verso il fiume uso la riqualificazione è l'ultima parte dei sistemi l'ultima l'area delle escorderie è esattamente di fronte dove siamo noi dalla parte di là di questa via la via dell'esistenza fino ad arrivare alla parte vedete bianca è il parcheggio di via Piave è un'area molto centrale ma immaginiamo in basso c'è sempre la via della resistenza come un'area verde un'area decentrata per servizi e funzioni terziarie il commercio divicinato lo spostamento dell'attuale alimentari supermercato che c'è in via Piave ma soprattutto lo spostamento di uffici un po' di residenza un'area per parcheggi anche per la zona sportiva che è di fronte un'area parco urbano sicuramente una nuova sede per le poste di Sant'Arcangelo perché dove sono ora siamo troppo piccoli questa è un'area centralissima alla città questa è un'altra immagine copertura autoproduzione di energia elettrica il lago Santarini provenendo da Sant'Arcangelo siamo subito dopo il ponte sul Marecchia direzione San Martino San Termete un'area importante questa è una foto storica dell'impianto esistente di lavorazione della ghiaia estratta dal fiume un'attività estrativa che è stata interrotta 30 anni fa da 30 anni non si tira più fuori nulla dal fiume Marecchia si formò però un grande lago di cava che contiene attualmente 4 milioni e mezzo di metri cubi di acqua che può essere utilizzata insomma la natura negli anni ha rimarginato quella ferita perché il lago Santarini è una ferita nel fiume rimane una ferita causata dall'uomo ma la natura mano a mano sta ponendo mano da sola la immaginiamo esattamente come oggi in futuro un luogo più frequentabile accessibile con la pesca sportiva col canottaggio pochi giorni fa c'era Giosefa Idem campionessa olimpionica che era interessata molto a questo luogo ma con un impatto zero forte vocazione naturalistica ricordiamo che il lago Santarini è una proprietà privata quindi c'è molta attenzione lo immaginiamo semplicemente in futuro come oggi un'area però riqualificata l'immobile che vedete è esattamente quello che c'è oggi nulla di più collegato però con la pista ciclabile che c'è lungo il fiume Marecchia è collegato con una pista ciclabile da Sant'Arcangelo alla Marechiese in modo tale che sia frequentabile a piede in bicicletta si possa arrivare sul lago Santarini con delle attività come vedete sul lago Santarini dista un chilometro da piazza Ganganelli vicinissimo sono ovviamente suggestioni questo è l'immobile che è esistente un capanone di lavorazione lo immaginiamo semplicemente con questo volume che rimane con un'area insomma per accogliere le persone che verranno in questa meravigliosa area naturalistica e che tale deve rimanere ex busi unicem siamo sul finale e quindi usciamo dal cuore della città e dalla rete delle piste ciclabili e arriviamo a San Michele in questo volo che è un cementificio è stato un cementificio fino al 98 fino al 2008 queste sono immagini attuali del cementificio dismesso e questi sono gli attuali volumi esistenti alla ex busi unicem quelli attuali sono stati presi fotografati gli attuali volumi messi in rendering come vedete e sono molti volumi tanti cento anni di attività di questa fabbrica che produceva cemento questo cominciamo a immaginare il domani è un'immagine l'immagine di prima senza molti volumi quindi il tema del vuoto cioè del togliere i volumi e il carico urbanistico ritenuti come dire superflui sottolineo da subito che si immagina di mantenere l'impronta che sono questi volumi che però alcuni rimangono sono l'edificio centrale questo questo parallelepipedo centrale che attualmente c'è i silos altri volumi dietro il corpo centrale da ristrutturare e da mantenere ovviamente con funzioni dedicate e specifiche puntiamo al riutilizzo ai fini pubblici dell'immobile centrale quello che vedete e anche dei silos come segno però di archeologia industriale è accaduto troppe volte in passato non dico qui da noi ma anche altrove che dove c'erano i luoghi delle fabbriche e del lavoro poi si sia spazzato tutto e non è rimasto il segno di quel luogo del lavoro si chiama archeologia industriale se così la vogliamo chiamare immaginiamo in futuro di mantenere dei volumi come questo questa è una suggestione è una suggestione un po' spettacolare sicuramente con le grandi potenzialità che quel luogo può avere per Sant'Arcangelo ma anche per Poggio Berni che è il comune a noi di fronte per tutta la Val Marecchia siamo nell'ombelico della Val Marecchia dove c'è attualmente la Buzione insomma vogliamo rafforzare con questa suggestione la valenza ambientale che deve venire al primo posto collegamento col fiume Marecchia come vedete dietro un parco urbano fino al fiume Marecchia riuso riconversione recupero e reciclo 3, 4 R parole d'ordine suggerite dal lavoro dei forum di discussione che hanno lavorato per un anno sarà io uso questo termine potrebbe essere la città ideale cioè senza auto dentro che devono restare fuori poco costruito molto in autocostruzione poco commerciale di vicinato per dare risposta alla frazione è comune a noi vicini grande area verde fino al Marecchia riutilizzo a fini pubblici dell'immobile centrale dei silos i volumi e le nuove funzioni dell'area le leggete anche se in piccolo incubatore di impresa cittadella del gusto centro civico pubblico polo turistico standard di servizi di quartiere paesaggi ricorrenti fluviale rinaturalizzazione memoria storica archeologica eco-abitare per giovani anziani giovani coppie autocostruzione il domani alcune suggestioni il silos attuale rivestito con funzione di ristorazione di ristorante cittadella del gusto ci hanno indicato i forum di molti giovani che hanno partecipato a quel forum è una provocazione? sì sembra un rapido in realtà lo immaginiamo come il trenino della Valmarecchia perché lungo la Valmarecchia sull'ex sede della ferrovia Sant'Arcangelo Rubino che non è mai esistita che collega che doveva collegare Sant'Arcangelo con Rubino abbiamo tutto un percorso su cui immaginiamo un trasporto lento un trenino elettrico della Valmarecchia alcune suggestioni della parte dentro di quell'immobile dell'ex Buzzi Unice e sono ovviamente immagini suggestioni pensieri e alcune idee di questo grande volume centrale pubblico e questa è la suggestione finale che è quella iniziale finisco finisco con quello che Tonino chiamava i progetti sospesi i progetti sospesi come li chiamava Tonino non sono dei progetti ma delle idee che si fissano nella memoria noi noi ne abbiamo immaginato uno uno solo ed è appunto un progetto molto sospeso che è il tema della via Emilia l'attuale via Emilia e il Sant'Arcangio la chiamano la circovallazione la via Emilia l'antica Emilia passava da San Vito la nuova via Emilia passava sotto sotto l'arco che tutti conosciamo la via Emilia poi è stata spostata ed è dove oggi che tutti sappiamo via Ugo Braschi la chiamiamo ancora via Emilia e Sant'Arcangio la circovallazione bene il tema è un tema sospeso ma c'è e c'è tutto cioè la via Emilia divide in due Sant'Arcangelo è una barriera fisica ci sono certi sotto i passaggi aggiungiamo pure i passaggi pedonali semafori e chiamata ma quella via divide in due la città la parte alta è la zona della stazione quella in basso è il centro delle contrade allora se questa via divide in due la città e vogliamo anche qui con una suggestione con un progetto molto sospeso lungo e lontano immaginare il futuro perché non immaginare la via Emilia che non c'è più che si infila sotto e e immaginiamo sulla via Emilia il parco della via Emilia che è lungo 550 metri il tratto che attraversa Sant'Arcangelo e non la divide più possiamo immaginare o sognare come un pensiero sospeso di farci sopra un parco urbano con degli alberi il verde ovviamente la pista ciclabile così ricuciamo e colleghiamo senza più barriere le due parti della città abbiamo e ho concluso questa sera è solo l'inizio di questa immaginazione e vi rubo solo due minuti per poi passare ad altro perché immaginiamo delle altre iniziative questa sera solo l'inizio perché immaginiamo un percorso espositivo sotto i portici del comune del municipio con i pannelli che illustrano i progetti sospesi la Sant'Arcangelo 2030 le idee i luoghi del festival perché in 43 anni il festival internazionale del teatro in piazza ha utilizzato molte volte i luoghi che prima abbiamo visto dentro e fuori e allora perché non immaginare di coinvolgere il festival per realizzare iniziative eventi in alcuni luoghi che il festival aveva occupato nelle precedenti edizioni ma soprattutto dicevo solo l'inizio di questo coinvolgimento della città perché immaginiamo paesaggiando cioè questa primavera e quest'estate insieme con chi ci vorrà essere con la città che vuole discutere un tour anche in bicicletta anzi soprattutto in bicicletta anch'io assieme a chi ci vorrà essere per andare a vedere quei luoghi che prima abbiamo visto e per i quali ci sono delle suggestioni la ex Buzzi Unice entriamo dentro lo stabilimento immaginiamo da dentro la cittadella del futuro paesaggio riqualificazione riconversione autocostruzione andiamo nel sistema delle piazze andiamo a vedere il centro storico i luoghi della memoria quelli che abbiamo visto nel firmato andiamo anche a fare una chiacchierata perché c'è la disponibilità su Next Future cioè Futuro Prossimo con il sociologo Zygmunt Baumann che è l'ideatore tra l'altro del concetto di società liquida che è disponibile a venire a Sant'Arcangelo a ragionare di futuro del mondo e ha visto in Sant'Arcangelo la possibilità di immaginare qui il futuro del mondo da domani sarà online il nuovo blog di Sant'Arcangelo 2030 che si chiamerà www.santarcangelo2030.it che raccoglierà tutto questo materiale tutto e anche i video tutto le locandini manifesti tutta la presentazione di questa sera saranno lì indicate tutte le iniziative delle prossime settimane per coinvolgere i cittadini soprattutto i giovani o chi vorrà esserci e lì si potranno fare domande partecipare alla discussione sul blog e nei forum concludo seguiranno dietro di me tutti i ringraziamenti vi chiedo solo quell'attimo di attenzione in particolare agli sponsor privati che hanno sostenuto questa iniziativa e a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato a questa presentazione queste presentate sono idee e suggestioni immaginiamo insieme i luoghi del futuro sostenibile vi chiedo da sindaco e da sant'arcangiolese di esserci ancora nelle prossime settimane nei prossimi mesi con una grande partecipazione un po' come questa sera siamo in 7-800 questa sera contatti all'ingresso e questa cosa ovviamente riempie il cuore perché questa è una città questo me lo fa dire come sindaco sono fortunato se queste cose accadono come è accaduto questa sera che io assieme all'intera giunta e gli amministratori chiamiamo a discutere la città e questa città motivata viene qui questa sera in tantissimi semplicemente perché ha voglia di vedere e di costruire con gli altri il suo e il nostro futuro il futuro non si prevede si inventa proviamo a inventarlo insieme grazie applausi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti